buonasera signori buonasera e benvenuti con le pagelle di juventus monza partita chiesa di sporta ieri quarti di finale di coppa italia finito 1 a 0 per la squadra bianconera allora ragazzi pagelle veloci perché sono abbastanza di fretta infatti questo video qua sto scendo appunto di sera lo sto registrando di sera però ho avuto una giornata un po impegnativa e che forse il concetto è passato in secondo piano io dubito che la partita sia stata meritata io però parto di partita povera perché c'è stato poco poco azioni poche poche cose poi quelle poche cose che ci sono state ci sono state solamente da parte della juve quindi sicuramente sta meritata non è che abbiamo eccelso anzi noi comunque segniamo per un errore del portiere perché se maximiano non esce in quel modo non so neanche se segni quindi diamoci questi semi finali siamo contenti però non abbiamo fatto mica calcio e champagne per il resto è meritata quello è poco ma sicuro allora vado veloce perché ho poco tempo ripeto però vi dovrò faccio uscire lo stesso perché voglio bene per in io ho dato 6 semplicemente ragazzi la razza non fa un tiro in porta tiri pericolosi qualcuno ne è arrivato però nello specchio della porta io che mi ricorda per in parate non ne ha fatte danilo 6 il peggiore in difesa stranamente danilo si danilo peggiore in difesa quando i suoi compagni di squadra si facevano saltarmi molto bravo a poi chiudere no a fare il raddoppio e tutto quindi se solo prende però diciamo che ha preso anche un giallo ha fatto fatica lui e quadrato comunque zaccagni infatti per quadrato ci arriviamo dopo 6 sufficiente ma nulla di che bremer 7 più migliori in campo autore del gol gol che comunque ci fa qualificare non solamente per il gol anche in fase di difensiva bremer impeccabile ieri lazio poca cosa va detto però bremer si intasca immobile bremer quando la lazio passa col falso 9 fa passare quasi mai pedro fa passare quasi mai felipe anderson solo una volta salta felipe anderson bremer quindi ordinato sia dietro ma efficace davanti per il gol quindi 7 più alexandro 6 più alexandro mi è piaciuto ieri ragazzi esternamente strano dirlo però ieri alexandro difeso bene molte chiusate di testa importanti anche quando avevo palla che a volte stava un po a a complicarsi la vita il suo lavoro freddo bene o male non mi ha fatto cazzato è uscito comunque c'è uscito comunque sempre a uscirne bene fuori quindi tutto sommato di dolce più quadrato 5 quadrato non mi è diventato ragazzi mi dispiace ma zaccani lo superava sempre sempre molte volte quando faceva fallo e poi sono gli dai 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 si è preso anche il giallo giustamente in fase di spinta poca roba proprio anche qualche volta saltare l'uomo non ci è mai riuscito quindi one 5 fagioli 5 e mezzo anche lui non sufficiente mi dispiace per il faggio ma nel primo tempo sbaglia una palla per una palla importante dove poi alla fine arriva questo tipo di zaccani che poteva essere molto più pericoloso poi zaccani sbaglia per fortuna però lì fagioli perde una palla e non incide tanto centro campo nel primo tempo secondo me fagioli quindi 5 e mezzo locatelli 6 e mezzo molto bene soprattutto nel secondo tempo ha fatto una partita in crescendo però molto bene molto bene anche la verticalizzazione di can bellissima giocata anche molto bravo a pressare i minuti finali lì proprio in gare sui giocatori mi è piaciuto locatelli quindi 6 e mezzo giustamente l'ho svincolato al fantacalcio adesso fa il fenomeno ops piccolo spoiler vabbè ho fatto l'asta quindi poi scoprirete i miei acquisti con i prossimi episodi Rabiot 6 sufficiente compitino quindi nulla di che deve essere sincero Rabiot 6 Kostic 7 secondo migliori in campo secondo me Kostic perché alla fine nel primo tempo il giro più pericoloso lo fa lui Maximiano fa una buona parata poi fa il cross per Rabiot completamente solo Rabiot li deve fare molto meglio poteva anche la 6-8-6 però lì Rabiot non deve sbagliare il cross comunque di Kostic e su quella palla dove Federico Chiesa ci crede che mette con la palla lunga la palla arriva Kostic e Kostic fa l'assist per Bremmer Kostic appunto fa l'assist per Bremmer quindi Kostic sicuramente migliori in campo dopo Bremmer gli ha dato un bel 7 Chiesa 6 sufficiente qualche volta prova a strappare non sempre riesce comunque a dribblare comunque alla fine l'azione parte l'azione del gol dell'1-0 comunque parte da Chiesa che crede ci crede su quel pallone evita di far sì che la palla diciamo esca fuori esca fuori dalla linea quindi recupera questo pallone mette una palla sbagliata poi al centro però poi c'è lì Kostic che ci pensa lui però Chiesa alla fine gli dà un bel 6 perché se non ci avesse chiuso su quel pallone quella palla c'era fuori chissà magari il gol non arrivava di Bremmer Vlava 5 e mezzo purtroppo lui già non è riuscito ancora a incidere è appena tolto da poco ci può stare aveva 60 minuti nelle gambe poi lei l'ha tolto ha fatto un colpo di testa difficile da segnare è un tiro completamente a caso sbagliato a lato quindi insomma deve ancora tornare Lujan Blavic 5 e mezzo niente di che Ken gli dò il 6 più perché quando è entrato mi è piaciuto ha avuto anche l'occasione del gol per Maximiliano gliela para però a Ken così va servito Ken va servito in profondità dove lui può correre può attaccare la palla e tu lo metti in condizioni mi ripeto di farlo giocare spalla alla porta siamo sempre lì anche Lujan Blavic se tu invece lanci Ken come ha fatto Locatelli quel tipo di verticalizzazioni vanno trovate più spesso lì Ken può essere anche utile puoi sfruttare diciamo le sue potenzialità perché qualcosina ha a Ken migliore e tu devi incidere su quello Miletti 6 partita da sufficienza ha avuto anche un'occasione su un colpo di testa se non sbaglio cross sempre di Kostic comunque mi impatta un po' mai alla pala non mi impatta non inquadrà alla porta però comunque la sufficienza al 6 glielo possiamo dare Di Maria 6 meno perché quel meno molto bravo a fare i numeri a superare anche l'uomo cioè Di Maria su questo non si critica però nel finale anche Allegri si incazza urla su di lui pesantemente ha questa palla che porta a palla porta a palla si addormenta la perde più concentrazione quando si entra in campo visto che comunque si è entrato a 15 minuti dalla fine per il resto poco da dire se è meno De Sciglio gli diamo un senza voto perché entra piccolo appunto su De Sciglio un giocatore che a me non piace per niente perché a me De Sciglio non piace però ci può stare che tu lo fischi a Monza perché aveva giocato di merda ok ma fischiarla appena entra che deve ancora comunque toccare palla quello lo trovo sbagliato perché se fai una brutta prestazione il giocatore va fischiato e sono d'accordo ma se deve ancora entrare in campo toccare una boccia aspettiamo perché poi questi fischi non incoraggiano il giocatore e poi lo fanno giocare di merda secondo me a prescindere cioè fischi a caso così no se giochi di merda fischi ma se sta appena entrando non fischiatelo subito ripetami non piace De Sciglio però questo piccolo appunto volevo farlo Allegri 7 perché comunque vince la partita non chissà quanto 1-0 però vuoi o non vuoi Allegri in questa partita riesce a ingabbiare Sarri perché la razza di Sarri non fa un tiro in porta quindi l'ha preparata bene formazione giusta 3-5 cioè ha fatto un 3-5-1-1 con chiesa seconda punta le ha provate insieme devono ancora trovarsi due però potrebbe essere una bella coppia anche se questa Juve ripeto io forzerei molto di più sul 4-3-3 perché è una Juve da 4-3-3 secondo me questa non da 3-5-2 non da 3-5-1-1 però comunque Allegri ha avuto ragione ha vinto non abbiamo rischiato praticamente nulla e quindi Allegri e Gabia Sarri il 7 al mister per questa qualificazione semibinari glielo possiamo dare anche se con l'Inter ripeto ci vuole qualcosa di più ragazzi pagelli veramente veloci di solito approfondisco un po' di più dura anche 15 minuti video di pagelli di solito a parte che comunque sapete qua non c'è va tanto da raccontare quindi per quello anche proprio streaming in sito il video però poi ripeto sono un po' di freddo stasera sono al bar di tifosi channel quindi link in descrizione passate al link in descrizione se volete c'è anche il mio filo twitter in descrizione quindi passateci e volete seguirmi ogni lato posto qualcosina sulla Juve lasciate un bel like lasciate un bel like se vi piace comunque il video delle pagelle che io continuo a portarvelo quindi se avete lo stesso supporto io vi continuo a portare le pagelle quindi lasciate un bel like commentate questi tuoi commenti infatti mi sapete un po' voi cosa ne pensate appunto nelle mie voti personali siete d'accordo con me oppure no ma scrivete questi tuoi commenti così poi ne imparliamo e ci confrontiamo e anche iscrizione al canale cosa più fondamentale perché l'iscrizione è fondamentale è gratuita non costa nulla e mi aiutate a crescere così e vi ringrazio di cuore se lo fate condividete anche il video con i vostri video iscrivete anche loro e attivate le appena notifiche così non perdete i miei prossimi video che usciranno domani quindi anche è tutto fino alla fine è sempre forza di evento siamo al semifinale bella